Pari punti, destini simili sino ad oggi, la salvezza passa anche se non soprattutto da gare del genere Vietato sbagliare, serie di gironee, Ligorna-Viareggio, benvenuti Diciannovesimo, subito Ligorna con vassallo, cross basso, arriva De Persis di corsa ma il difensore salva Ventiseiesimo, Russo dalla distanza, alto, trettaseiesimo, serie di rimpalli, sfera pane pinto, De Magistris si immola Quarantesimo, Rosati si incuna in area e cade, decisione, simulazione giallo Rivediamo insieme la caduta di Rosati, vittima o attore, a voi la sentenza Quarantacinquesimo, vassallo sulla destra, cross per De Persis e questa volta è quella buona Grande azione sull'asse, vassallo De Persis che porta Ligorna in vantaggio, è 1-0 Undicesimo del secondo tempo, palla, Rosati ma puli, Dori è perfetto nell'uscita Ventunesimo del secondo tempo, Pagano avanti sulla sinistra, esplode lo shoot e trova l'angolino Grande gol che porta al pareggio, è 1-1 Saltiamo al trentaduesimo, Viareggio in dieci per espulsione di Rosati per proteste E Ligorna in avanti, cross per Chiara Abini, parata ma Super Mirko ribadisce in rete Segnatura che porta i padroni in vantaggio sia sul ponteggio che negli uomini in campo, è 2-1 Trentottesimo, da un Mirko con la K ad un Mirko con la C Vassallo tenta il tiro a giro e segna il gol della domenica Incredibile segnatura di Super Mirko Vassallo E Ligorna vola, è 3-1 La palma del migliore in campo andrebbe data sicuramente a Mirko Vassallo Però io vorrei darla a pane pinto Non soltanto per la sua ottima prestazione ma anche per il nuovo taglio di capelli E soprattutto il colore di capelli che ha sfoggiato Quindi da pane pinto a pane tinto Grazie a tutti Grazie a tutti